Il duca e la duchessa del Sussex hanno firmato un lucrosso accordo con Netflix dopo essersi dimessi da reali senior nel 2020, ma finora non sono riusciti a produrre molti contenuti.Al principe Harry e Meghan Markle è stato detto di iniziare a produrre alcune buone idee per Netflix se vogliono che l'accordo continui, hanno affermato i rapporti. Da quando hanno firmato l'accordo, del valore di circa 73 milioni di sterline, tre anni fa, i Sussex hanno prodotto solo una docuserie in sei parti. Ma una fonte ha affermato che la coppia ha ricevuto solo circa la metà del denaro concordato, con i restanti 40 milioni di sterline da consegnare quando la coppia inizierà a produrre più contenuti per il gigante dello streaming. Il mese scorso è stato rivelato che la coppia avrebbe assunto un ruolo più dietro le quinte e avrebbe smesso di fare documentari rivelatori. La fonte ha detto a The Sun, non si tratta di una separazione pubblica che attirerà i titoli dei giornali. Netflix è stato lieto di firmare Harry e Meghan e sta cercando alcune grandi idee per il futuro. Ma il resto dell'accordo si basa sulla loro produzione di quelle buone idee. L'accordo è continuamente in fase di revisione, il che è normale per quelli di questa portata.